La stavi facendo la cappella? La stavi facendo la cappella di rovinare una partita dove il Parma il primo tempo sembrava il Manchester City? Bentornati! Lui le stava facendo la cappella, però quest'anno la squadra a volte va da sola, cioè praticamente non ha bisogno di nessuno e va contro anche le cavolate che stava facendo il nostro amico Pecchia. Adesso ve la spiego. Allora, le Ceparma 2 a 4, siamo passati addirittura in Coppa Italia e siamo passati contro una squadra di Serie A comunque, fra l'altro di mezza classifica, quindi sicuramente è un grande risultato e sicuramente andarsi a giocare gli ottavi a Firenze è una bella vetrina. Quindi complimenti alla squadra, un po' meno a Pecchia, però devo dire che un attenuante ce l'ha. Allora, partiamo dall'inizio. Parma è il Parma che parte veloce con un grandissimo pressing, bellissimo il primo tempo, primo tempo con un al nono minuto al nono minuto Somm che porta subito in vantaggio il Parma, con un Eino che anche lui fa vedere l'attaccamento alla squadra. Eino che comunque sotto il profilo della cattiveria agonistica è sempre stato un buon giocatore, se non ottimo, dopo va bene tecnicamente è un'altra cosa, però Eino strappa un pallone sulla fascia di destra difensore del Lecce, mette in mezzo, la palla finisce fuori area dove Somm tira di prima con intelligenza di piattone, la mette sul primo palo e gol. Gol del Parma dell'1-0. Dopodiché abbiamo Coulibaly al diciottesimo che si invola tipo cost to cost dopo un doppio dribbling. Alla fine sul più bello, però purtroppo non ha la gran fama dell'attaccante, infatti cerca addirittura di superare il portiere, cosa che poteva tirare direttamente da subito e buttarla in rete. E vabbè, niente, ha voluto dribbling anche il portiere, alla fine si è fatto recuperare dal difensore scivolata, peccato, perché poteva andare meglio. Al ventottesimo, capolavoro di Bonni, capolavoro di Bonni perché è una palla scodellata in area, la difesa la butta fuori alla bene meglio, arriva al limite dell'area Bonni che subito senza pensarci un secondo, intelligentemente, intelligentemente anche lui di piattone la va a buttare l'incrocio dei pali. Quindi gol capolavoro di Bonni e 2-0 per il Parma. A questo punto cosa registriamo? Registriamo un primo tempo spettacolare con un Parma che va in vantaggio 2-0 a Lecce, con un Circati che si conferma un ottimo difensore, con un Bonni spettacolare, nel senso che stavolta alla solita fase di mi trasformo in Lukaku e tengo un pallone, non ne mollo uno, mi devi ammazzare per riuscire a farmi perdere il pallone, tecnicamente te la muovo come voglio e faccio salire la squadra, squadra che poi una volta salita te ne combina di tutti i colori, nel senso che oramai gira quasi a memoria in una fase d'attacco. Cosa succede? Succede che dopo tutto questo bello, succede che Pecchia, eccolo qua, Pecchia decide, decide che Bonni se lo vuole tenere buono per la partita col Suttiroli in casa e che per pochi giorni e niente, imminente, e quindi decide che Bonni deve scendere, quindi fa solo un tempo Bonni e cambia tutto. Cambia tutto perché? Perché quel ragazzo qua, quel ragazzo qua, Bonni, il problema è che anche se non fa gol è fondamentale, è fondamentale anche lui giallo blu con le luci giallo e blu, questo ragazzone qua è fondamentale perché? Perché anche se non segna, praticamente fa sì che l'attacco del Pama resti inchiodato dove lui riceve il pallone e possa ricevere i palloni e cominciare l'azione d'attacco. Cosa che poi non succede più, non succede più perché al posto di Bonnichi entra Bernabè che, ragazzi, per la B niente da dire, però il problema è che Bernabè non è una statua tipo Lukaku piazzato là e anche fra l'altro veloce e con una buona tecnica che tiene il pallone e non te ne vedi una. No, non è così, Bernabè fisicamente non è Bonni e quindi succede che il Pama non trova più il suo riferimento là davanti a cui affidare il tenere il pallone per poi cominciare l'azione d'attacco e quindi non riesce più a tenere la palla su. Fra l'altro ovviamente Lecce dopo l'intervallo sotto i due gol è ovvio che ti aspetti un po' di orgoglio da una squadra di Serie A che cerca di recuperare la partita, questo è vero, però la maggior parte della responsabilità è il fatto che è sceso Bonnichi. Non c'era più un riferimento là davanti a tenere i palloni perché tutto quello che volete, Mabè, Bernabè e compagnia non sono persone che garantiscono di poter tenere i palloni in avanti, sono più leggeri, non hanno la stessa copertura di Bonni, non c'è niente da fare, ha altre caratteristiche eccetera. Quindi il risultato è che secondo tempo avviene che il Lecce ci attacca da tutti i cantoni e ci vuole un grande Corvi, un grande Corvi che comunque riesce a fare una bellissima uscita in area ad anticipare l'attaccante del Lecce che se no anche lì si trovava davanti a quella porta spalancata e poi succede che al 54esimo dopo solo 10 minuti becchiamo il gol di Piccoli, Piccoli che sarà, non è piccolo per niente perché è un metro e 91 e quindi di testa è riuscito anche a staccare una volta sui cercati creando un grande pericolo e il risultato è che Piccoli va in gol, una cazzata in difesa, una palla persa veramente da Polli e alla fine c'è il pareggio, no scusate il pareggio, il 2-1 del Lecce, dopodiché succede che appunto il Parma praticamente è nullo, è nullo, si difende fatica a ripartire fino ad arrivare al secondo gol del Lecce, il 75esimo perché è il Lecce che gioca solo lui, praticamente si gioca a una porta e va a pareggiare con Strefezza, 2-2 quasi da fuori area, Strefezza a gran tiro, a giro e Corvi in questa cosa non può fare niente, è battuto. Dopo solo due minuti dobbiamo ringraziare Corvi ancora perché, perché paratona di Corvi credo su Piccoli anche se non sono sicuro ancora, credo di sì, su un tiro ravvicinatissimo davanti alla porta la becca di piede ci salva, ci salva il culo a noi ma soprattutto a Pecchia, perché se no era 3-2, quindi ci salva e restiamo sul 2-2 e a questo punto, a questo punto finalmente entra Charpentier, l'ha capita, devo dire che Pecchia a questo punto l'ha capita, Pecchia la capisce al 78esimo, capisce che devi far sì che la squadra possa rimanere là davanti e gestire il pallone e finalmente con Charpentier questa cosa comincia a avvenire, il Palma si comincia a risvegliare e a giocare anche lui, anche se purtroppo Coulibaly, ottimo del primo tempo, non si vede nel secondo perché il problema è che essendo stato munito soffre tremendamente il velocissimo subentrato, come si chiama qua, ve lo dico, banda, che è velocissimo e quindi rischia poi di commettere dei falli da rigore e diciamo rischia di beccarsi una doppia munizione, quindi è molto più con il freno mano tirata in difficoltà. Ma, ma, ecco qua cosa succede, che il nostro amico Pecchia, dal possibile sconfitta dopo essere stato 2-0, succede che questa, no, non questa persona qua, ma questa persona qua che è entrata, è entrato Dennis Mann e Dennis Mann ovviamente cosa fa? La risolve. La risolve? il nostro amico Dennis ha il quinto gol in campionato, 7 in totale che è il suo record, da quando è arrivato in Italia con la malla del Palma, 7 gol totali per Dennis Mann, Dennis Mann, quindi Dennis Mann la risolve, come la risolve? La risolve Dennis Mann perché al 94esimo, cioè non ha appena entrato, al 94esimo ha uno scatto bruciante, bruciante, che lascia 2-3 metri indietro nel giro di pochi secondi il diretto avversario sulla fascia di destra, la butta in mezzo intelligentemente bassa e violenta e la palla viene colpita da due difensori del Lecce e finisce in fondo al sacco. Quindi 3-2 per il Parma. E questo devi ringraziare Pecchia, il grande man, grande man che al 94esimo ha voglia di mettere di nuovo il turbo e toglierti le scastagne del fuoco. Infine, vabbè, registriamo anche il gol di Dennis stesso, che Dennis stesso va a battere in calcio di rigore e procurato da un'azione bellissima di Bernabè che si porta a spasso da metà campo in avanti la difesa del Lecce, entra in area di rigore, destra-sinistra controllo il pallone, te la nascondo, la vedi, non la vedi? Alla fine, fallo del difensore del Lecce che ormai non vedeva più, era diventato matto, non capiva più dove era il pallone, dove erano i piedi, dove era in campo lui stesso e calcio di rigore, va a battere Dennis meritatamente, secondo me è giusto che abbia tirato lui, la butta in gol e festeggia il suo quinto, settimo gol in totale con la maglia del Palma quest'anno. Grazie Dennis, non tanto per il 4-2, ma grazie per lo strappo che ci è valso il 94esimo, il gol della vittoria alla fine. Ottimo ancora Somme, anche gli strappi bellissimi che ormai invece che essere uno ogni 20.000 anni come era l'anno scorso, adesso sono diventati una regola e quindi ragazzi c'è c'è, e non che si esalta ecco. Somme che è diventato uno strappo partita, Dennis Mann è diventato praticamente un mini Messi, Lukaku Boni, boh che dire, non so più che dire, ha cercato diventato Cannavaro, boh niente, ci resta usorio che finalmente siamo fortunati che sia infortunato, non è che voglio che sia infortunato grave, ma è infortunato e quindi fortunatamente non lo avremo nella partita prossima dove affronteremo in casa del Sud Tirol e questo è un vantaggio, quindi niente, mi piace per lui ma sinceramente io mi sono rotto le palle del fatto che Pecchia deve per forza schierarlo come se fosse Baresi, Maldini o Cannavaro. Cannavaro ce l'abbiamo già, gli altri due con questo qua non c'hanno niente a che fare, quindi caro mio Pecchia cerca di farti entrare nella testa che Osorio non è Maldini, neanche Baresi, quindi siamo fortunati che riusciamo a non vederlo in campo perché si è infortunato in questa partita e quindi abbiamo la fortuna che col Sud Tirol non ci sarà. Niente ragazzi, quindi chiudo dicendo, perché siamo dati lunghi, ma non riesco a dire due parole, non ci riesco, anche se vado di fretta non ci riesco. Niente, grandissima quest'azione, primo tempo come il Parma sa fare e dovrebbe fare, secondo tempo rovinato da Pecchia perché ha fatto uscire Bonni perché si è visto appena uscito Bonni noi non siamo più riusciti a tenere un pallone, cosa che nel primo tempo praticamente eravamo solo noi a fare tutto, quindi forse ti dico l'attenuante che ti do caro il mio Pecchia è il fatto che probabilmente, allora guai a te, adesso fatti vedere dove sei finito, allora guai a te se hai fatto scendere guai a te se hai fatto scendere Bonni e gli hai fatto far solo mezza partita rischiando di compromettere il miracolo qualificazione, tra virgolette miracolo, comunque la qualificazione è bella contro Lecce, se l'hai fatto scendere per poi non farlo giocare con i su Tirol, allora attenzione, stai attento e dopo ti platto in diretta perché non si può, quindi sei uscito per giocare con i su Tirol, non ti perdono totalmente perché rischiavamo veramente di andare a perdere una partita e hai già vinta sul 2-0, però se non lo fai giocare con i su Tirol stai attento molto, ok, buono, grazie Dennis che ci hai messo del tuo e oltre del tuo per facendo vedere che in questo momento ti senti il leader di questa squadra e anche se non ti senti lo sei in questo momento, anche se sei in buona compagnia perché anche lui non è da meno, nemmeno cercati, nemmeno Somme, il solito è Steves, però qualcuno sta facendo qualcosa che l'anno scorso non c'è, sarebbe stato impossibile vedere e dico mi dispiace per il Mudo, però Mudo tu hai le tue responsabilità grossissime secondo me perché secondo me a questo punto devo pensare che il tuo modo di giocare calamitava troppo e stavi anche sulle palle a tanti dei giocatori, i tuoi ex compagni, deve essere così perché non si spiega, è impossibile, cioè in così poco tempo non è successo niente, c'è stata solo un'estate in mezzo, sembra 4-5 giocatori importanti che adesso stanno facendo sfracelli, prima sembravano destinati a giocare a malapena in Serie C, l'unico che non è cambiato un cazzo è Osorio che è sempre Grammo come sempre e quindi vabbè lui magari non c'è speranza o magari succederà prima o poi che fuori di giocare delle partite, cioè anch'io se andassi a giocare in Serie B prima o poi imparo qualcosa, fare degli elementi con delle gente molto più buona, prima o poi qualcosa ti insegneranno, boh basta, fine ragazzi vi saluto, se è fatto tardi, video lunghissimo, chi lo vuole ascoltare l'ascolta, chi non lo vuole ascoltare, ascolti pure due minuti, fate quello che volete, iscrivetevi al canale e buona serata a tutti, ci si rivede dopo Parma su Tirol, attenzione a Casiraghi con 7 gol, è veramente una mina vagante e quindi partita veramente da prendere con le pinze, non si può certo pensare di attaccare su Tirol a sprombattuto, stiamo attenti, su Tirol non è facile e quindi la magia sia con voi e sempre con voi, Forza Parma e Grande Mago, Forza Sicco Mago, iscrivetevi, ciao!